La Palone nacque ad Aghiaccio nel 1669 Napoleone capì subito il suo problema, era alto un metro e un tappo Osservando i suoi amici si rattristava sempre di più, per questo si diede alla guerra Era il 15 maggio del 1796 e Napoleone con le sue truppe si diresse verso la Savoia Il 21 luglio del 1798 Napoleone attaccò l'Egitto Created using Paltoon